Ieri pomeriggio si è tenuto l'ultimo consiglio comunale dell'anno, consiglio che era previsto 24 ore prima ma in mancanza del numero legale dei consiglieri è slittato al giorno successivo. Il civico consesso è stato convocato per due punti, la delibera sulla verifica delle società partecipate e l'atto di adesione per la realizzazione dell'aeroporto del centro Sicilia. Il consiglio ha approvato ambedue le istanze.